Quando compri, cerchi un volto amico di cui fidarti, due chiacchiere, un sorriso. Ci sono botteghe e negozi dove sanno capirti e consigliarti. Ci sono bar e ristoranti che conoscono i tuoi gusti e sono pronti a servirti a casa. Ci sono persone che sanno starti vicino perché ti sono vicine da sempre. Botteghe, negozi, bar, ristoranti, vicini a casa, vicino a te.